La fondazione della Camera dei Deputati, in collaborazione con Eni, ha ricordato a Montecitorio Enrico Mattei, a 50 anni dalla scomparsa. La rievocazione della sua figura ci riporta a una fase di straordinaria crescita dell'economia e della società, quando il nostro Paese entrò nel novero delle maggiori potenze industriali del mondo, risollevandosi dalle macerie e dalle distruzioni della guerra. Alla presenza del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, hanno introdotto i lavori il Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, e il Presidente della Fondazione, Fausto Bertinotti. Sono intervenuti il Presidente e l'amministratore delegato dell'ENI, Giuseppe Recchi e Paolo Scaroni, e il Presidente di RCS Libri, Paolo Mieli. L'attore, Neri Marco Re, ha letto brani tratti dai discorsi di Enrico Mattei. È stato inoltre proiettato il video, la voce di Enrico Mattei, a cura di Sergio Toffetti, con la partecipazione straordinaria di Francesco Rosi.